...e Mosca, l'ultima prima del Cacidiano. ...si si è espresso così chiaramente in tema di trasparenza, perché questa rappresenta il pilastro fondamentale del nostro modo di intendere la conduzione della politica commerciale comunitaria e per avere un fruttuoso rapporto con i nostri partner e soprattutto con l'opinione pubblica europea. E' a maggior ragione, quindi, che trovo deplorevole che siano state accampate motivazioni procedurali per bloccare la ratifica a livello comunitario della Convenzione della Maurizios sulla trasparenta dei meccanismi di risoluzione delle controversie e allo stesso tempo che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la Convenzione. Pur rendendoci conto dei limiti del Consiglio in materia, come sono stati sottolineati, noi crediamo, contrariamente ad alcuni colleghi, che sia assolutamente necessario un intervento di tutti i soggetti istituzionali perché facciano pressione per sbloccare questa situazione e a maggior ragione, in un momento chiave per la riforma dei meccanismi di risoluzione delle controversie, il Consiglio e gli Stati membri sono chiamati a una prova di maturità che passa anche per la ratifica della Convenzione Uncitral. Grazie. Abbiamo ancora due oratori nell'ambito del CACTII. Maria Zajakovcic. Onorevole Maria. Grazie Presidente. Oggi parliamo dell'arbitrato tra investitore e Stato.